Ci sono arrivate tantissime segnalazioni alla nostra redazione e quest'oggi parleremo di una piazza, la piazza Antico Mister Bianco, che nel corso delle feste, come lo è stata tuttora per la Madonna degli Ammalati, è occupata. Di questo appunto ne parleremo con la portavoce al Consiglio Comunale di Mister Bianco, Valentina Puglisi, che è ai nostri microfoni. Stamattina ci sono arrivate diverse segnalazioni da parte dei residenti di via Galimberti ad angolo con la via De Vespri, che sono vicini alla piazza dell'Antico Mister Bianco. Ci hanno detto che stanotte non hanno potuto riposare per gli schiamazzi dovuti alla comunità di nomadi che si è ambientata per la festa della Madonna degli Ammalati. Già il 29 gennaio noi come gruppo Movimento 5 Stelle avevamo mandato una lettera al sindaco proprio per avvertirlo di questa situazione ed eravamo stati ascoltati. per carnevale, però avevamo proprio sottolineato che durante le feste di paese, quindi il carnevale, la Madonna degli Ammalati, Sant'Antonio Abbate, queste comunità di nomadi occupano alcune piazze. In questo momento occupano questa piazza dell'Antico Mister Bianco, purtroppo causando disagi ai residenti. Questa piazza non è attrezzata per servire a tale scopo, quindi ci auguriamo che nelle prossime occasioni l'amministrazione possa collocare queste comunità di nomadi in altre piazze o in altri luoghi con servizi igienici adeguati e acqua pubblica per evitare disagi ai cittadini.